ciao ragazzi e bentornati sul canale oggi andremo a vedere la nuova scheda della big tree tech la kraken una sorta di rifacimento della octopus ma mettiamoci a computer e andiamo a vedere più nello specifico allora ragazzi andiamo a vedere nello specifico questa scheda ho aperto il pdf tradotto in italiano per chi lo vuole lo può trovare nel mio patreon nella sezione negozio qui io traduco tutti tutte le varie schede in italiano quindi trovate tutti i pdf di quasi tutte le schede della big tree tech a poco a poco le inserisco tutte i patron invece paganti ce l'hanno gratis e ce l'hanno già nella bacheca quindi a chi serve le troverà lì andiamo a vedere la scheda la nuova scheda big tree tech kraken v 1.0 tra come novità abbiamo che questa è una sorta di revisione della octopus una scheda che già abbiamo visto in un video qui abbiamo una scheda che ha dei tmc 21 60 integrati tmc 21 60 sono dei driver che hanno delle tensioni da 8 a 60 volts e un micropasso da 256 le varie le varie funzioni di spirit cycle dc step stall guard ossia senza i fine corsa la scheda utilizza un mcu arm cortex m7 serie stm 32 è una 32 bit con una frequenza principale di 550 megahertz molto più veloci delle altre precedenti qui abbiamo un chip di alimentazione tps 54 55 ampere è una scheda che supporta il 12 e il 24 vols è una scheda madre che ha un pulsante di bot riservato che consente agli utenti di aggiornare il bot looter tramite la modalità dfu il circuito del termistore protetto per evitare danni alle mcu dovuti al cortocircuito dei collegamenti a letto riscaldato o della cartuccia del riscaldatore quindi anche se le invertite non succede niente ha un voltaggio selezionabile per le ventole da 24 12 e 5 volts a due moduli integrati max 31 865 che supportano le termocoppie doppie pt e compatibili con pt 100 e pt 1000 poi abbiamo che il firmware può essere aggiornato tramite scheda micro sd oppure il comando make flash di clip per tramite dfu 8 driver tmc 21 60 integrati in modalità spi abbiamo visto un video specifico sul canale dove vado a spiegare tutte le modalità con pin di funzione di ag quindi con il sensorless interfacce riservate per rilevamento del filamento spegnimento automatico sonda rgb uscita di alimentazione c servo xp1 e xp2 can uart e usb a a un mosfet ad alte prestazioni per ridurre la generazione di calore fusibili sostituibili per una facile sostituzione due interfacce ventola quattro pin con tensioni selezionabili da 24 12 e 5 volt adatte anche per configurazione di raffreddamento ad acqua una porta per interruttore di prossimità integrato che supporti tipi npn e pnp da 24 12 e 5 volte selezionabile andiamo a vedere più nello specifico le varie funzioni qui trovate i vari pin mi raccomando rispettate sempre il pin out della scheda eccolo qui con tutti i pin descritti anche abbastanza bene finalmente la big 3 tech incomincia a fare dei manuali fatti bene i driver integrati tmc 21 60 qui a un bel dissipatore unico poi qui abbiamo la selezione delle ventole in 24 12 5 volte basta andare a inserire un ponticello la configurazione del bl touch cr touch quello che volete basta rispettare i pin e rispettare soprattutto i pin del bl touch che non tutti sono sempre uguali il cablaggio di spegnimento automatico tramite relè abbiamo visto sul canale un video specifico su questo accessorio proprio della big 3 tech la versione 1.2 poi abbiamo il cablaggio del display qui abbiamo le due uscite xp1 xp2 un cablaggio rgb anzi ne possiamo inserire due qui e anche qui avremo un video specifico sul canale con i neo pixel dove vado a spiegare come inserire gli rgb sulle schede poi abbiamo il cablaggio del servo che è molto utile in alcune funzioni se avete un po di mentiva potete inserirli ovunque e andate ad abilitarli qui abbiamo una sorta di novità sorta perché io già lo installavo circa 56 anni fa sulle mie schede tramite un arduino e sono dei sensori di umidità che sono molto utili in una camera chiusa soprattutto per capire quanta umidità c'è dentro la camera poi abbiamo le varie connessioni alle ventole ne abbiamo quattro sopra come abbiamo detto e quattro sotto qui abbiamo i collegamenti ai sensori di prossimità npn e pnp con la resistenza di pull up basta andare a mettere dei ponticelli li abbiamo spiegati come configurarli nel marlin in un video specifico qui abbiamo il collegamento delle ventole in pvm a quattro poli la connessione a raspberry e qui poi andrà a spiegare come andarlo ad installare sul visual studio code per andare a compilare il marlin che ora andremo a vederlo insieme allora ragazzi proviamo a fare una compilazione insieme è la prima che faccio su questa scheda partiamo proprio dalla base quindi ci andiamo a scaricare l'ultimo marlin 2.1.2 andiamo qui comincia a fare il download qui della versione qui ci andiamo a scaricare invece la configurazione andiamo a cercare board underscore btt underscore kraken ok nel nuovo marlin non c'è nell'ultimo marlin vabbè quasi sicuramente la troverete fra qualche giorno nel marlin bisognerebbe andare a controllare nel bug fix se già l'hanno inserita andiamo ad aprire la cartella del bug fix marlin bug kraken ok marlin ok andiamo ad aprirla ecco qui si mi fido degli autori andiamo nel marlin configuration adb punto h giusto per andare a controllare prima andiamo in src core board spunto h pulsante trova scriviamo kraken vediamo se ci esce qualcosa eccola qui allora andiamo a copiare questo board btt kraken v1 copia ritorniamo in configuration punto h cerchiamo la board board e qui già era inserita di default perché lo scaricato direttamente da loro infatti qui troviamo le porte le serie al port già installate la 3 e la meno 1 andiamo a vedere tmc se sono già inseriti tmc 2160 a sto punto voglio controllarmi anche come hanno impostato la r sense quindi r sense ecco qui 0.0 22 dei motori fino a dovrebbe essere fino a quello z e 0.22 ecco qui e negli e dovrebbe essere uno 0 0 75 da j e in poi vanno tutti impostati a 0.0 75 sempre in configuration adb punto h cercate tmc andescorro us eccola qua andiamo ad abilitare l spi pattaformio punto ini ecco qua estm 32 h 72 3 z e c andescor btt proviamo a lanciare una build vediamo che ci dice se abbiamo una compilazione corretta perfetto abbiamo avuto successo nella compilazione questa è una compilazione base poi se dovete inserire accessori e varie funzioni potete rifarvi al pdf oppure ai vari tutorial che ho fatto nel patreon sul mio canale va bene direi che per oggi è tutto e se ci sono novità in merito faremo un aggiornamento io vi lascio se vi è piaciuto il video cliccate un mi piace e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ciao a io